Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 giornata di festa. Oggi a Chieti con tante iniziative all'insegna della cultura e della solidarietà. Numerosi gli eventi previsti per presentare alla comunità l'avvenuta fusione per incorporazione della Fondazione Chieti per l'Abruzzo e il Molise nella Fondazione Banco di Napoli. Il servizio di Paolo Renzetti. Un sabato di festa per celebrare l'avvenuta fusione per incorporazione della Fondazione Chieti per l'Abruzzo e il Molise nella Fondazione Banco di Napoli. Una giornata ricca di eventi quella di oggi a Chieti per celebrare anche la riapertura al pubblico di Palazzo De Maio con una mostra scenografica che sarà visibile fino al mese di ottobre. Far rinascere quella che è stata una storia interrotta dalla nostra fondazione e questo lo potremo fare grazie alla incorporazione dell'ex fondazione con la Fondazione Banco Napoli. Una opportunità straordinaria perché grazie a Fondazione Banco Napoli avremo possibilità di tornare a progettare, a programmare, a investire anche sui settori importanti come la cultura e il sociale. E' una opportunità straordinaria perché le due città di Napoli e Chieti in qualche modo riallacciano i fili di una storia che fonda le proprie radici in un passato anche remoto ma che grazie a questa operazione rilancia tutta quella grande idealità che anche apparteneva a quella vicenda storica. E poi c'è un progetto al quale io guardo con estremo interesse e sono convinto che la Presidente Pagliotto saprà esserne interprete che è quello di vedere finalmente il meridione d'Italia esprimere le grandi eccellenze e Fondazione Banco Napoli può essere una tra quelle che dà la possibilità a tutti noi di essere orgogliosi di appartenere a questa parte del paese. Il futuro appartiene a chi verrà, noi siamo il presente quindi lavoriamo oggi sulla concretezza. Posso dire che sarà fatto tanto di tutto e di più, soprattutto la Fondazione Banco di Napoli si pone oggi come ente fortemente innovativo anche nel sociale e nell'ambito culturale. Unire Chieti e Napoli sono due punti del nostro territorio, del nostro paese, soprattutto del nostro meridione. Noi siamo prima di tutto cittadini italiani, poi dopo siamo dei meridionali orgogliosi di appartenere al sud dell'Italia. Valorizzare le nostre eccellenze, pensare ai nostri giovani, al loro futuro, ecco questo deve essere un pensiero importante. riscoprire i talenti e fare del meridione d'Italia quella parte del paese capace di rilanciare verso una dimensione internazionale, prima ancora europea, un luogo che ha dato tanto e che ancora sa esprimere grandissime capacità, anche produttive, di saper fare, che noi dobbiamo tendere a valorizzare. Italia Nostra dice no ai trabocchi ristorante. Sono stati progettati solo per 8-10 persone, dice il presidente d'Italia Nostra Lanciano Pierluigi Vinci Guerra che ha inviato un dossier alla regione in vista dell'approvazione della nuova legge. Il servizio, vediamo. A pochi giorni dall'inizio della discussione della nuova legge sui trabocchi, in consiglio regionale a Fossacesa il Comune ha emesso l'ordinanza di cessazione attività per uno dei trabocchi più noti e frequentati dell'omonima costa. Il pesce palombo di Bruno Veri ha ricevuto una nuova ispezione da parte della Capitaneria di Porto di Ortona assieme al dirigente comunale Domenico Moretti che ha firmato l'ordinanza. La vicenda nasce un anno fa con una prima ispezione che contestava opere realizzate in maniera abusiva. Il traboccante oppose ricorso al TAR ma i giudici amministrativi di Pescara lo hanno respinto. Il Comune non ha dato parere in merito alla sanatoria sulle strutture orizzontali e verticali per il mantenimento in funzione dell'antica bilancia da pesca. Decaduta anche la concessione marittima, il 25 maggio la nuova ispezione con la contestazione del mancato ripristino dello Stato dei luoghi e 6.000 euro di multa. L'ordinanza comunale contesta anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata senza autorizzazione con quella stagionale ormai decaduta. Il pesce palombo non è l'unico trabocco irregolare secondo la Procura di Lanciano che ha aperto l'inchiesta. Anche il Comune di San Vito Chietino ne ha chiuso un altro. C'è da chiedersi come cambierà la costa dei trabocchi con le attività di ristorazione chiuse ad una ad una dopo oltre un decennio di richiamo per i turisti. Il dibattito è aperto in attesa delle decisioni del Consiglio regionale. La filea CGL avanza due proposte di legge per i lavori nei cantieri all'interno dei crateri sismici. Il servizio. Una legge regionale sul calcolo della congruità di manodopera nelle costruzioni già esistente in Umbria è tesa a garantire un lavoro regolare e di qualità. Una legge quadro nazionale per la prevenzione e la gestione delle emergenze post calamità che ponga al centro anche l'urgenza di omogeneizzare l'azione legislativa in caso di eventi calamitosi. Queste le due proposte di legge della filea CGL, due proposte costruite sull'esperienza nei cantieri del terremoto abruzzese che il sindacato degli edili mette in campo a dieci anni dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009. Nell'iniziativa Il lavoro edile nei cantieri dei crateri sismici e nella regione Esigenza di legalità e proposte di legge per un settore trasparente e sicuro, presentata nel capoluogo, il sindacato ha raccontato lo stato dell'arte in Abruzzo e ha tracciato un bilancio dell'attività del settore edile nel processo di ricostruzione. Dopo il primo appuntamento a Piazza Duomo con l'Assemblea e il pranzo insieme agli operai della ricostruzione del centro storico del capoluogo abruzzese, le proposte di legge nel corso della conferenza nella sede della CGL in via Saraga al nucleo industriale di Pile, alla quale ha presenziato il segretario generale nazionale della Fillea CGL Alessandro Genovesi. Coloriamo la piazza, iniziativa oggi in Piazza Duomo, a conclusione del progetto Solo posti in piedi. Oltre 600 bambini hanno composto una scritta animata nel centro della città dell'Aquila. Il servizio di Daniela Rosone. Una scritta vivente animata da 650 bambini delle scuole elementari dell'Aquila vestiti con casacche colorate al centro di Piazza Duomo nel cuore della città. È l'evento Coloriamo la piazza che ha chiuso i primi sei mesi di attività del progetto Solo posti in piedi, educare oltre i banchi, un'iniziativa selezionata dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Solo posti in piedi è partito ufficialmente nel gennaio del 2019 con le incursioni, lezioni, spettacoli e dimostrazioni di lavoro di varie discipline tenute a sorpresa ma concordate con gli insegnanti dalle associazioni promotrici del progetto all'interno delle scuole primarie. Alle incursioni hanno fatto seguito le botteghe creative, laboratori didattici tenuti sempre dalle nove associazioni partner e quattro open day organizzati negli istituti scolastici che hanno partecipato al progetto, direzione didattica Silvestro Dall'Aquila, l'istituto Gianni Rodari, direzione statale Amiternum e circolo Galileo Galilei. Il traguardo finale di Solo posti in piedi sarà l'apertura di una ludoteca pubblica nel centro storico della città. In questi primi sei mesi di attività sono state effettuate 156 incursioni in 31 classi e sono stati attivati 31 laboratori. In totale i bambini coinvolti sono stati circa 650 e sono stati loro, i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte al progetto, a ritrovarsi in piazza per comporre la scritta Tutti per uno, una ludoteca per tutti. Ogni lettere è stata composta da più bambini e ogni gruppo di bambini ha indossato delle casacche di un determinato colore in maniera tale da dar vita a una coreografia animata e variopinta. Una volta che i bambini si sono separati, le grandi lettere tracciate sulla pavimentazione di Piazza Duomo sono state colorate con dei gessetti portati con delle carriole, le stesse carriole che nel 2010 migliaia di aquilani usarono per ripuovere le macerie dal centro storico dell'Aquila. Ospite della nostra trasmissione Velò, il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha parlato dei successi di Dario Cataldo e Giulio Ciccone, pure viabilità, strade, piste ciclabili, altri temi affrontati dal presidente che promette che anche nel 2020 la Corsa Rosa transiterà nella nostra regione. Vediamo. È una bella emozione, quella poi di Cataldo l'ho potuta vedere anche in diretta perché ero davanti alla TV. Peraltro sono due vittorie belle, ma strepitose anche per come sono arrivate. C'erano due tappe epiche che penso che questi ragazzi racconteranno per tutta la vita, i loro nipoti e pronipoti. Il primo, una fuga, se non sbaglio, di 200 chilometri, praticamente tutta la tappa in fuga, in due, è arrivato al traguardo con pochi secondi di vantaggio sugli inseguitori, ma hanno tenuto duro fino alla fine. Peraltro il compagno di fuga non collaborava con Cataldo e quindi si è veramente portato sul traguardo praticamente da solo. Io non sono un ciclista, ma penso che stare 200 chilometri praticamente da soli, in due, a guidare una corsa, ad arrivare fino in fondo, avere ancora le energie per sprintare, è davvero una cosa che racconterà per lungo tempo. Il Mortirolo poi è un'altra tappa di quelle che hanno segnato la storia del ciclismo, dei grandissimi campioni, quindi immagino Ciccone con quanto orgoglio possa esibire questa preda, perché prima di lui questa montagna è stata domesticata da nomi che hanno fatto la storia, se non la leggenda del ciclismo mondiale. La Regione Abruzzo, peraltro, ha investito per permettere ai ciclisti di trovare delle strade adeguate. Noi appena sono stato eletto non avevo ancora formato la Giunta e già ricevevo diverse sollecitazioni, perché c'erano diverse località, diversi comuni che chiedevano un sostegno della Regione per passare l'asfalto, per rimettere in sicurezza alcune strade. Lo abbiamo fatto di buon grado, nonostante qualche polemicuccia, ma penso che abbiamo fatto bene, perché abbiamo offerto dell'Abruzzo un'immagine seria, efficace, di capacità organizzativa, di promozione del nostro territorio, e quindi penso e spero che l'organizzazione del Giro d'Italia tornerà volentieri nella nostra Regione, ancora di più se la nobilitiamo con queste vittorie, dimostrando che il ciclismo fa parte del tessuto vivo e della cultura della nostra terra, della nostra Regione. È un appuntamento per il 2020, quindi più o meno? Certamente, insomma, non posso pensare a un Giro d'Italia che non passi in Abruzzo, ovviamente. Si sta completando, stanno avanzando i lavori, abbiamo fatto delle riunioni, le ha fatte gli assessori competenti con i comuni interessati per completare la ciclovia adriatica. L'Abruzzo avrà, quando questa opera sarà completata, da qui a breve, oltre 130 km di pista ciclabile lineare che parte da nord a sud attraversa tutta la costa adriatica e il nostro impegno è fare in modo che poi questa linea che corre lungo l'Adriatico possa essere la base di partenza di una serie di aste che entrano all'interno del territorio e che ricollegano le piste che pure si stanno realizzando nell'entroterra. Quindi da questo punto di vista abbiamo progetti importanti già in corso e altrettanti ne svilupperemo perché oltre ad essere come dire un tipo di mobilità ecologica sana che fa bene appunto all'ambiente oggi la bicicletta è anche una modalità di turismo particolare che attira un pubblico qualificato, esigente, istruito, che ha voglia di vivere delle esperienze particolari a contatto con la natura e quindi se saremo capaci di realizzare questa rete e di farla conoscere al mondo io penso che ci sarà anche un indotto economico importante che potrà arricchire l'offerta turistica della nostra regione e l'attrattività dell'Abruzzo. A Castel di Sangro dal 2 al 9 giugno ci saranno i mondiali studenteschi di tennis si spiederanno con le racchette i migliori talenti sportivi da tutto il mondo. Vediamo. La regione Abruzzo si veste dei colori delle bandiere delle squadre degli 11 paesi che saranno i protagonisti dei campionati mondiali studenteschi di tennis. La presentazione è avvenuta in Regione a Palazzo Silone. Dal 2 al 9 giugno i migliori talenti sportivi mondiali saranno a Castel di Sangro un evento organizzato dalla International School Sport Federation dal Ministero dell'Istruzione della Ricerca e dall'Ufficio Scolastico regionale. Più di 300 studenti con gli staff tecnici parteciperanno alla sfida sportiva. La cerimonia di apertura è prevista il 3 giugno in piazza Plebiscito a Castel di Sangro mentre la fiaccola sarà accesa allo Stadio Patini. Il ruolo della scuola in questa competizione è molto importante sin dalla scelta del logo con la mascotte realizzato da uno studente del liceo artistico Bellisario di Pescara. È una grande occasione per l'Abruzzo perché abbiamo un evento che è mondiale internazionale che è un evento sportivo che riguarda tante nazioni e porterà qui tanti ragazzi stranieri a visitare l'Abruzzo. È una grande occasione per la scuola perché la scuola non è soltanto il tempo scuola è anche attività e pratica sportiva intesa in senso educativo è un grande laboratorio quello che si creerà si farà attività sportiva che da solo va a far crescere gli studenti attraverso attività non formali ma è anche una grande occasione perché ci saranno attività collegate alla creatività questo logo che vedete è stato creato ideato da una scuola la brochure e la mascotte è stata ideata da una scuola l'attività divulgativa è stata curata dalla scuola ci sarà un giornalino di alcune istituzioni scolastiche il buffet sarà organizzato da una scuola che è quella dell'alberghiero di Roccaraso ci sarà tutta un'attività collegata all'inglese perché i ragazzi dovranno ovviamente ricevere le delegazioni straniere quindi è una grande occasione un grande cadredoscopio di attività una settimana di gare ma non solo sport anche uno scambio e un incontro tra studenti di tutto il mondo in un evento che esalterà ancora una volta il territorio tutto della regione Abruzzo stiamo cercando di promuovere il territorio abruzzese in tutte le sue province e le sue realtà speriamo che il tempo ci aiuti Castel di Sangro è una realtà sportiva e turistica di molto rilievo noi ci impegneremo e un grazie particolare va al mio direttore generale Antonio Latozza e tutto lo staff dei miei colleghi che stanno lavorando da mesi per questo evento Apriamo ora la pagina dello sport in qualche modo l'abbiamo fatto anche con l'ultimo servizio la prossima settimana sarà quella decisiva sul fronte allenatore del Pescara in pole position il tecnico della primavera Bianca Azzurra Luciano Zauri a giorni ci sarà l'annuncio tra i calciatori sui quali il neotecnico potrà contare c'è il portiere Vincenzo Fiorillo con cui abbiamo parlato della stagione che si è appena chiusa e del record personale che insegue diventare il portiere con più presenze con la maglia del Pescara ascoltiamolo Vincenzo Fiorillo a pochi giorni dalla sconfitta col Verona intanto immagino che la delusione non ancora sia passata no è stata una delusione grandissima perché resta il ramarico di di aver sprecato comunque un'occasione importante perché per assurdo siamo stati molto più bravi fuori casa che in casa avevamo un buon vantaggio per il posizionamento in classifica per la possibilità di appunto giocare la carta dei due risultati su tre anche se fossimo andati in finale e il ramarico più grande è non averla sfruttata però c'è da prendersi le proprie responsabilità che non abbiamo fatto secondo me una una grande partita a ritorno come andava fatto quindi rimane la delusione ma dentro noi stessi e quindi c'è da c'è da archiviarla fa fa piacere comunque aver fatto un campionato essere arrivati fino in semifinale dopo la la scorsa stagione che è stata un po' travagliata e speriamo che appunto questo entusiasmo finale possa essere la base per l'anno prossimo Pillon si è congedato proprio domenica sera un anno e tre mesi con lui che figura è stata Pillon? Ma io lo ringrazierò sempre perché in primis mi ha dato sempre fiducia e credo di avergliela ripagata ma ha un valore umano molto molto alto e gli auguro il meglio perché comunque per me rimane il ricordo indelebile di una salvezza conquistata a Venezia che non era così scontata e quest'anno appunto saper ricreare quel giusto entusiasmo dentro il gruppo dopo un'annata comunque difficile a lui vanno i meriti se tu dovessi restare qui per altri tre anni supererai Gino Dicenzo ci pensi a questo traguardo mancano una settantina di partite sì sì ci penso perché è un obiettivo che mi ero dato a lungo termine è stato bellissimo quest'anno appunto raggiungere il mitico Paolo Bordoni mi farebbe molto piacere perché poi non sarà semplice perché bisogna continuare a a lavorare seriamente e mancano ancora tantissime partite però mi farebbe davvero molto piacere perché poi sono numeri che rimangono impressi nella storia del Pescara è un obiettivo che mi piacerebbe raggiungere perché scrivere un pezzettino di storia del Pescara per me sarebbe un bel motivo d'orgoglio Stallo nella trattativa per la cessione del Teramo vetti incrociati che rischiano di fare una sola vittima la squadra di calcio che entro il 24 giugno deve iscriversi al campionato il servizio di Jacopo Forcella la trattativa per la cessione della Teramo Calcio come sulle montagne russe a colpi di comunicati la strada che pareva spianata adesso si complica effetto del rialzo imprevisto di qualche giorno fa di Franco Iachini che si dice interessato a rilevare le quote della società bianco-rossa ma solo ad una condizione il problema è che l'offerta per la gestione dello stadio Bonolis prescinde dalle intese definite nella convenzione con il comune di Teramo in più l'offerta che il gestore risibile e inaccettabile senza però chiudere la porta ad un incontro che invece Iachini non sembra volere pare infatti che abbia confidato che il suo è un prendere o lasciare o così o nulla e questo è uno scoglio molto grosso al raggiungimento di un accordo che doveva essere a due Iachini-Campitelli e che i due hanno reso tripartito ma da questa situazione Campitelli si è chiamato subito fuori lascia la squadra anche nelle mani del sindaco se tutto dovesse saltare e in questo modo la palla torna in gioco ancora col comune che aspetta e valuta gli sviluppi della situazione in questo momento della costruzione dell'impianto ecco il perché della prudenza di Gian Guido d'Alberto che sa quali sono le stime reali dell'operazione in questo momento il primo cittadino preferisce non entrare nel merito della vicenda per vedere cosa succederà ma qualche indiscrezione parla di una vicenda che Iachini potrebbe presto lasciar perdere anche considerando che non si aspettava una situazione debitoria tale della società Biancorossa come ha ammesso in maniera limpida nel primo dei due comunicati dinamati in poche ore una squadra che ha ancora 23 giorni di tempo per iscriversi e che o vede un ammorbidimento generale di toni oppure rischia di fare una sola vittima il teramo stesso di cui sembra importare poco a tutti una squadra a cui si sono avvicinati in tanti e che nessuno rischia di prendere strano davvero il calcio sembra un balzo indietro di anni il 100% il 50% il 49% il 20% di numeri se ne sono fatti tanti ma nessuno sa che valore abbiano così come nessuno sa che valore abbiano i 17 anni di gestione del Bonolis si continua a colpi di botta e risposta e a rimetterci sono e soprattutto saranno davvero tutti in Serie D continuano ad esserci incognite intorno al presidente Gilberto Candeloro molti rumors lo vorrebbero in uscita da Franca Villa sulla questione abbiamo interpellato il sindaco Antonio Luciani nell'intervista di Alfredo Primante è finito il campionato di Serie D Franca Villa che non ce l'ha fatta così ad ambire alla promozione tra i professionisti ci sono delle voci che vogliono il presidente Candeloro lontano da Franca Villa ma c'è un piano B eventualmente per consentire al Franca Villa di restare ai livelli che ci ha abituato in questi anni doverosamente devo partire da una premessa per spiegare la situazione Gilberto Candeloro va solo ringraziato e andrà sempre ringraziato per quanto ha fatto fino a questo momento per il Franca Villa calcio è stato protagonista ha portato la nostra squadra a livelli che non si vedevano ormai da decenni e quindi noi lo ringraziamo veramente tutti io mi auguro che lui possa restare sulla piazza possa continuare questo percorso certo però forse sta sentendo un po' di isolamento io mi augurerei che qualche imprenditore locale che qualcuno interessato si avvicini la squadra lo potrà fare anche tramite me senza problemi sono qui a rilasciare questa intervista anche per questo per cercare diciamo di creare qualcosa che poi possa convincere anche il presidente Gilberto Candeloro a non abbandonarci ma a restare con noi io ho fatto calcio prima di fare il sindaco e ho sofferto anche di quell'isolamento nel quale forse ora si trova il presidente Candeloro preciso che le mie sono supposizioni perché con lui ho scambiato solo qualche breve battuta e ci vedrò più in avanti però ecco immagino che se la piazza insomma gli potesse far sentire oggi il calore lui potrebbe anche considerare riconsiderare il tutto una squadra di calcio è veramente un'azienda molto importante che vive con un ingrediente che è quello principale che è la passione allora io invito tutti coloro che hanno passione per il Francavilla Calcio ad avvicinarsi ad avvicinarsi a dare il loro contributo non necessariamente un contributo solo economico ma appunto un contributo di passione abbiamo disciplina a 57 anni il giuliese Gabriele Tarquini continua a essere pilota di grandissimo livello sfidando atleti più giovani Tarquini si è giudicato il World Touring Car Cup 2018 e di questo traguardo e della sua costante competitività ha parlato lo stesso Tarquini che ascoltiamo nell'intervista di Publi Video Gabriele Tarquini quali sono i suoi segreti per questa grande longevità agonistica? Beh non ho segreti sinceramente è stata la passione che mi ha preso da bambino sulla pista di kart che non mi ha mai abbandonato poi il buon Dio mi ha dato delle caratteristiche fisiche che non si sono esaurite in pochi anni e quindi nonostante i miei 57 anni sfido ancora i ragazzini su un campionato duro e divertente come il WTCR che mi ha visto impegnato lo scorso anno e mi ha visto anche vincere lo scorso anno quindi nonostante gli anni riesco ad essere ancora competitivo Ricordi della Formula 1? Sono lontani perché la mia ultima apparizione con la Tirrell fu nel 1995 dei momenti belli non eccelsi perché ho fatto solo un sesto posto come miglior risultato però insomma una Formula 1 piena di ricordi tempi di la mia generazione è stata quella di Senna e Prost della McLaren rossa Malboro di tanti campioni Piquet Manse l'Alboreto Patrese Senna come ho detto prima Prost quindi fatta di uomini che si sfidavano in una Formula 1 molto diversa da quella attuale e oggi è campione del mondo in una categoria particolare Sì sono campione del mondo lo sono diventato due volte nel 2009 sono diventato il più vecchio campione del mondo a 49 anni battendo un pilastro insomma storico che è Juan Manuel Fangio che ha vinto il mondiale a 47 anni mondiale di Formula 1 indubbiamente una grande soddisfazione e adesso mi sono battuto ho battuto me stesso perché ho portato innalzato ancora l'asticella perché a 56 anni sono diventato di nuovo campione del mondo Con l'Abruzzo nel cuore Sempre io non ho mai dimenticato le mie radici che sono fondamentali sono state fondamentali anche per la mia crescita quindi sono rimasto qui vivo a Giulianova per me è una valvola anche di ristorazione perché a Giulianova ricarico le batterie sono spesso fuori ma mi piace vivere qui in Abruzzo tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma youtube oppure sul sito www.tv6.it il TG6 termina qui prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23 grazie per averci scelto grazie per averci scelto